Si chiamavano finanziamento, ma il 90% aveva fatto un referendum che non si poteva più dare. Allora che cosa fanno? Orwell, la neolingua, rimborso, rimborso è una buona parola, rimborso. Rimborso, quindi avrai speso qualcosa, poverino, allora io te li ridò, però spendi uno e ti fai rimborsare dieci, è un furto. Sono dei ladri che devono restituire i soldi prima di andare via. Musica 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 Musica